Grazie a tutti di essere qui, buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo il team di YouTube, siamo entusiasti di essere alla Milano Music Week. Questa settimana è davvero una gioia vedere così tanti di voi. Mi presento, io sono Chiara Santoro, faccio cose, vedo gente nel team di YouTube Musica, questa è una sintesi estrema, ma sono qui soprattutto con Dan Chalmers, il nostro Head of EMEA, e Marga Romero, che è la nostra Music Lead per il Sud Europa. E oggi vi raccontiamo un po' di cose che riguardano proprio come elaborare una strategia multiformato su YouTube. Iniziamo però con un po' di introduzione. I'm going to switch to English now, to give a warm welcome to Dan Chalmers at Milano Music Week. Hi, everybody. Apologies, I have to speak in English, but my Italian, apart from food references and wine, is terrible. But I want to say hello to everybody, it's a real honour to be at Milan Music Week. Obviously, I've heard about your Fashion Week and other weeks for many, many years, so congratulations on five or six years, and we're looking forward to supporting next year. So, already held you to that one. And I want to give a big thank you to Chiara, Marga, Emanuele, Lior, and everybody in the team for showing up this week. I hope you get a lot from the sessions. So, the best place for every music fan. This is kind of our internal mantra. I guess a mission statement would be one way to call it. But what does the best place for every music fan really mean? Well, of course, it means great music. It means the best choice of music. It means the best recommendations for music. It means the best music quality. In terms of audiovisual, it means the biggest community for music. We have over 2.5 billion fans, which is hugely enormous, enormously huge, however you want to say it. And, of course, the best technological developments with the likes of Shorts and, of course, AI, with our announcement last week. Now, talking about Shorts, you're going to hear a lot about Shorts, I guess, in the presentation. And we're really proud of the scale that Shorts has now achieved. We have over 80 billion daily views, which is phenomenal. But Shorts should not be the end of your musical journey. Imagine only listening to 30 seconds of The Beatles or 30 seconds of Pink Floyd or 30 seconds of The Rolling Stones. You know, you'd be depriving yourself of a great deal of joy. So, at YouTube, we really believe in deep fandom, deep artistic connection. And that's why, from Shorts, you'll see we'll seamlessly move you onto YouTube main to continue your consumption experience, whether it be through full tracks, through videos, through live content, through documentaries, and, of course, through different forms of fan engagement and participation through the great deal of UGC that we have on the platform. We truly believe if we're the best place for every single music fan, we're the best place for every artist and songwriter. So, this is really our mission statement. And hopefully the team are friendly and we're here to help educate you and enable you and your partners on the platform. So, let's head on to the next slide over here. This is just a snapshot of some of the numbers on the platform, which are truly significant. We have over 2 billion users, as I said, which is the biggest user base on any streaming music platform. We have now over 80 million subscribers. I think Lior last night announced a bigger number. I won't. But this is growing and we can expect a bigger number to be communicated soon. and we've paid out between summer 2021 and summer 2022, $6 billion to the music industry. This is to all rights holders, which is a significant amount of money and, we hope, goes into the important areas, such as artist development and growing the music business. So, that's my brief intro. It's a pleasure to be here again. I'm going to pass over to Marga, who will take us through the rest of the presentation. Thank you. Thank you, Dan. Ciao a tutti. Piacello to be here. Non so parlare italiano. Ma capisco tutto. Apologize. I will go in English. Okay. So, yeah. Very happy to be here with you. And today we're going to share a few notes about how YouTube's formats plays a crucial role within the music release cycle, particularly, because we believe that the content landscape is changing a lot and artists must be equipped and enabled with tools, resources, and features to make every music release a success story and to reach every music fan. As Dan said before, there is more than two billion users every month out there to reach out. So, the good news is that we have the best multi-format strategy to tackle those existing fans already and also to reach the new ones, always working on this unique YouTube ecosystem that makes the music cycle the best way to discover music, consume music, participate, and also create any kind of piece of content, whether it's music or not. So, yeah. Before we start, let's review today's agenda. As you can see here, we're going to see a little bit more in detail what's the multi-format of you as a whole on YouTube. Later, Chiara is going to talk about the music release cycle, mostly some best practices, and how to build your audience and develop new fans with some best practices. And finally, we're going to share some global best cases and also some great Italian cases for you. Yeah, and as we said before, the digital world is changing, right? All the time it's changing. And fans consume music in many different ways, and they interact in many other different ways with any genre, artist, any form of content. And sometimes fans just follow the trends that their friends are following or the artists are following, or they kind of search for particular, you know, official video content. And so, whatever the case is, YouTube can provide the tools and the right tools to the right audiences. And we are on every touchpoint. We want to be on every touchpoint for every music fan. So, how we can make this, again, because we consider that YouTube is quite unique on this, and we have a diverse set of content formats that you can see here in the slide, across traditional videos, long-form videos, but also the new short vertical videos that we launched a few months ago, the lives in form of live streams, so that's kind of your toolkit. And what we consider is when one artist is using more than one of those formats, we say that this is a multi-format strategy, right? And why? Because we think that this, you know, multi-format strategy can really reach to your existing audience, but also can reach a massive new audience, right? Engaging new people. No, give me one more note on this, again, on the cycle, right? The cycle is shown here. Here you can see how this ecosystem works and how everything is connected with each other, while, you know, you have discovery coming mostly from the short-form videos that we know now that discovery is really happening on that format, particularly, and remember what Dan said, there is more than 70 billion daily views of shorts globally, which is crazy, so that's a great entrance point for new fans and music fans. And not only that, you know, thanks to that entrance, the user or the fan, the music fan, can enter to the long-form videos, which is in the music app or in the main app of YouTube. And there is many other ways to keep feeding that cycle, which is translated into also some creations from fans and also from the user. And that starts the loop again and again, right? And I think now I'm passing over to Chiara. Thank you, Marga, so much. You want the clicker? Yes. Ripasso all'italiano. Torno all'italiano. Volevo anche dire che c'è qualche sedia libera qua, vedo delle persone in piedi, per cui se qualcuno si vuole accomodare, ci fa molto piacere. Una nota anche che volevo aggiungere, spesso capita che, insomma, una delle domande più frequenti che riceviamo è dove trovo questa presentazione. Questa presentazione la trovate online, su youtube.com slash artists, quindi è proprio in formato slide, quindi potete benissimo presentarla ad artisti con cui lavorate, ai vostri team e tutto. Oggi faremo una breve sintesi. Vi racconto un po' quelle che noi consideriamo un po' le best practice per quanto riguarda proprio la parte di multi-format. Come vi raccontavano Marga e Dan, è veramente la nostra strategia, quella di creare un percorso per gli utenti, ma questo significa anche dare la possibilità agli artisti di avere tante leve creative, un modo unico per poter raccontare la loro storia. E ovviamente il come la storia viene raccontata è nelle mani, giustamente, dell'artista, di chi lavora con gli artisti delle case discografiche. Quindi noi mettiamo a disposizione tutti gli strumenti, ma la storia la scrivono proprio gli artisti, case discografiche e gli aventi diritto. Intanto vi facciamo un po' così, giusta una panoramica, facendo un po' quasi come se fosse un po' una checklist. Tendenzialmente quando c'è appunto un release cycle, quindi un momento appunto di release, c'è una parte prima della release in cui l'obiettivo è quello di creare hype, di creare insomma buzz intorno a quello che succede. Poi sappiamo che ci sono anche strategie che possono essere completamente diverse. Abbiamo visto nei mesi scorsi magari chi inizia ad annunciare diversi mesi prima e chi invece lancia un album senza neanche annunciarlo. Quindi sono totalmente scelte poi di artisti, manager e case discografiche e qua ci sono alcune azioni che si possono fare. Quindi ad esempio la possibilità di creare teasing attraverso preview, che è una nuova funzionalità, utilizzare shorts per iniziare a far sentire qualcosa, iniziare a creare un trailer o un teaser per il canale e anche iniziare a lavorare sull'ottimizzazione del canale per dire attenzione che sta per succedere qualcosa. C'è poi il momento della release, quindi il release date, il giorno in cui tendenzialmente chi sta lavorando a quel progetto è il più stressato di tutti e questo ben lo sappiamo per tutti voi che lavorate con la musica e ovviamente lì c'è proprio la promozione che inizia nel modo vero e proprio. Qua ci sono delle cose molto belle che si possono fare, ad esempio fare delle premiere dell'official music video, quindi creare dei momenti topici in cui tutti i fan accorrono per guardare il music video, ma anche fare ad esempio dei post sulla community. E poi c'è un momento successivo alla release in cui iniziano a svilupparsi dei trend, quindi si possono partecipare dei trend, si possono anche caricare quelli che noi chiamiamo supporting videos, cioè cercando anche di allungare il ciclo di vita proprio della release, quindi magari music video alternativi, altri contenuti, tutte cose che raccontano di più di quella, appunto che aiutano a raccontare la storia di quel singolo e poi continuare a ingaggiare con l'audience attraverso commenti e altri strumenti a disposizione. Nota molto importante, ovviamente quando si fa tutto questo c'è uno strumento che è YouTube Analytics, in particolare Analytics for Artists, vi mostrerò a breve che ci sono stati anche degli aggiornamenti su questo, che vi aiuta a tracciare quello che effettivamente sta succedendo. Quindi questa è una breve panoramica generale, cerco di raccontarvi in breve come sono le diverse fasi. Pre-release, appunto, excitement, questa è la parola chiave per la pre-release. E qual è l'obiettivo? Ovviamente ricordare ai fan che già hai, attenzione che sta per arrivare qualcosa, ma anche ingaggiare con dei nuovi fan, raggiungere nuove audience. E qui ci sono una serie di cose che si possono fare. Shorts sta avendo grandissimo successo, come vi raccontava Marga, e quindi la possibilità di utilizzare Shorts per ispirare e invitare i fan anche a iniziare a familiarizzare con il brano può essere una cosa molto utile. Una cosa carina che abbiamo visto fare da diversi artisti è che proprio mentre stanno anche registrando il singolo, eccetera, colgono l'occasione per registrare del contenuto che poi viene pubblicato magari in formato Shorts e funziona proprio anche a livello teaser. Questa è un'ottima idea. Poi anche che cosa si può fare? Si inizia a organizzare il canale, si inizia a organizzare il canale per prevedere un official music video o anche other visuals, come scritto qui, quindi possono essere visualizers, lyric videos, ci possono essere diversi formati. Qualche settimana fa ero in Turchia con dei ragazzi di una casa discografica turca, loro mi raccontavano che hanno elaborato un nuovo format di video, che non è un visualizer, non è un lyric video, lo chiamano uno go to label office video, cioè i loro artisti praticamente si filmano mentre stanno andando nell'ufficio della casa discografica e mostrano insomma il loro sentimento, così, e quello diventa un altro formato video. E loro hanno fatto questa cosa con vari artisti, giusto per dire che non c'è limite alla creatività e questi video vengono girati direttamente col telefono, quindi è una cosa anche estremamente semplice ed era divertente tra l'altro da vedere perché vedevi proprio il quartiere in cui tutto stava succedendo, giusto per darvi idea di altri contenuti. E poi ovviamente considerare il live, live su YouTube, considerate che il live su YouTube esiste dal 2011, e quindi è una funzionalità che esiste veramente da tantissimo tempo e si può fare in tantissimi modi diversi. Spesso uno pensa che il live si possa utilizzare solo con grandi produzioni, eccetera, ma in realtà si può andare live anche con il telefono mobile, cioè ci possono essere anche delle cose molto casuali che si riescono a organizzare. Qualche esempio di shorts, appunto come funziona, si possono creare shorts fino a 60 secondi per mostrare anche un po' della propria personalità, dare un'idea dell'aspetto creativo e anche magari iniziare proprio a, alcuni artisti iniziano anche direttamente da qua invitando i propri fan a creare shorts con le loro tracce. Oltretutto abbiamo recentemente anche aggiunto delle nuove funzionalità, sempre di più aggiungiamo funzionalità a livello di prodotto per fare sì che questa storia del multiformato abbia sempre più connessioni e abbiamo lanciato anche un sistema di previews per fare sì che sia possibile per appunto le case discografiche rendere disponibile una piccola preview, una porzione di contenuto prima dell'uscita ufficiale che i fan possono iniziare a utilizzare per creare degli shorts. Quindi questa è una cosa nuova che si può fare ed è appunto nella fase di pre-release. Aggiungo abbiamo lanciato anche abbiamo lanciato anche pre-save quindi ovviamente in fase di pre-release si può settare anche questo per ricordare che si può andare su YouTube Music poi quando sarà disponibile l'album o il singolo e guardare o ascoltare appunto il contenuto. Si possono anche appunto creare dei video come trailer o teaser per i singoli o gli album e questo soprattutto anche per incoraggiare nuovi fan a visitare il canale. Creare un teaser è davvero qualche cosa che può essere molto semplice nel senso che pensate anche lì può far parte proprio dello stesso processo produttivo del music video in sé ma quello può diventare anche un contenuto particolarmente utile in una serie di situazioni sia da un punto di vista di canale ma anche nel momento in cui si sta lanciando un nuovo video. Ci sono tantissimi artisti che utilizzano appunto i teaser qui c'è un esempio di Summer Walker. si può anche appunto utilizzare utilizzare community community è un altro strumento che permette di fare dei post sia testuali ma anche aggiungendo immagini noi consigliamo di utilizzarlo in realtà un po' in tutti i momenti nel senso che niente impedisce di utilizzare questo l'abbiamo visto in tanti casi sia per chiedere ai fan di votare un artista in grandi contesti ma anche internazionali o pubblicizzare insomma promuovere il proprio tour quindi è uno strumento assolutamente versatile è utile utilizzarlo anche in una fase di pre-release per ricordare i fan guardate che sta per uscire questo iniziare magari a non so postare fotografie dal behind the scenes o dare un'idea un po' di che cosa di che cosa aspettarsi è molto utile noi pensiamo sempre che sia estremamente importante per gli artisti e abbia grande riflesso il fatto di essere molto anche personali nella comunicazione più un artista anche si propone in modo autentico personale ti sta raccontando qualcosa di sé questa cosa arriva davvero ai fan e crea tantissimo tantissimo engagement e poi c'è uno strumento che forse alcuni di voi anzi penso diversi persone che sono qui conoscono che è lo strumento della premiere che consente di fatto di creare un momento clou se volete all'interno proprio di un canale nel momento in cui viene lanciato un music video di fatto diventa un evento vero e proprio il famoso trailer di cui abbiamo parlato prima può diventare anche il trailer di questa premiere quindi come funziona praticamente si setta un music video in questa modalità questo si può aggiungere questo trailer quindi prima della premiere i fan vedranno proprio il trailer e quindi iniziano a dire ah caspita ci sarà questa cosa qui viene dato un appuntamento vero e proprio uno si può mettere in calendario quando viene lanciato il video e poi nel momento in cui il video viene lanciato l'esperienza è come quella di un live cioè un custom countdown e poi parte il video a questo tra l'altro abbiamo aggiunto anche una possibilità aggiuntiva che diversi artisti italiani hanno utilizzato e anche tantissimi artisti a livello internazionale che è il live redirect praticamente consiste in un breve live che si può fare giusto prima il lancio di una premiere che è un po' come se un artista vi invitasse direttamente dire guarda che sto per lanciare un nuovo video vieni a vederlo con me e infatti tantissimi artisti non a caso utilizzano un live redirect proprio per magari fare una breve Q&A con i fan raccontare qualcosa anche delle cose da dieci minuti girate in modo estremamente semplice ma che hanno davvero grande grande impatto e quindi insomma questo è un modo molto semplice per lanciare un video ci teniamo anche a segnalarvi che praticamente tutti gli strumenti che vedete qui sono tutti self service quindi possono essere settati sui canali senza avere praticamente bisogno di nessuno quindi sono davvero anche scalabili molto importante spesso uno non ci pensa però anche molto importante nella fase di pre-release quella di ottimizzare il canale che cosa significa fare in modo che tutte le grafiche siano aggiornate ma anche magari creare poi delle sezioni quindi ad esempio aggiungere playlist eccetera cioè dare un po' anche la sensazione immaginatevi questo davvero come il punto di atterraggio in cui i fan capiscono un po' meglio chi è questo artista magari l'hanno scoperto per una serie di cose arrivano sul canale l'idea è più riesco in quel canale a dare il massimo delle informazioni a far capire davvero chi sono e più un fan dice ah caspita ma guarda che bello questo canale mi iscrivo assolutamente quindi è molto utile anche creare sezioni o playlist che aiutino poi nel nel contesto quindi rendere questa rendere il canale come uno strumento accessibile è il grande giorno è il grande giorno della della release e ovviamente l'obiettivo è quello di creare proprio il grande il grande momento quindi release release date assolutamente shorts come vi dicevo funzionano funzionano in ogni in ogni momento la premiere assolutamente può essere un ottimo sistema e anche creare alternative insomma alternative video come ad esempio visual e altri altri contenuti per fare in modo che ogni ogni fan poi trovi anche la sua versione il modo in cui si vuole ascoltare ascoltare il brano scoprire il video e scoprire l'artista e poi come vi raccontavo anche la possibilità di utilizzare live redirect official music videos io penso che tutti noi siamo dei grandi fan degli official music videos e le possibilità come ci dicevo anche prima sono veramente infinite si possono anche pensare di di fare veramente cose estremamente estremamente diverse utilizzando appunto visual per anche uno storytelling uno storytelling differente ad esempio o anche proprio dei veri e propri formati distinti come vedete in questo esempio nello stesso momento nel momento della release vengono anche creati magari delle special performance il making of the album eccetera cioè creare un set di contenuti che poi calendarizzati in un certo modo ti permettono di coprire un buon lasso di tempo e quindi anche di definire tu di calendarizzare tu effettivamente poi l'uscita a cui si sta lavorando come vi raccontavo velocemente Premiere ha avuto un grandissimo successo da quando l'abbiamo lanciata gli artisti possono anche partecipare alla chat e quindi rispondere in tempo reale a delle conversazioni e tutto prendere spunto da quello che succede nella chat per rispondere in video è quello che funziona funziona davvero molto bene e poi è molto utile anche per avere feedback perché i primi fan che stanno vedendo quel video cosa ne stanno pensando come lo stanno commentando quindi quello è un momento in cui se l'artista è presente durante la Premiere è come se veramente ci trovassimo qua immaginate e siamo tutti insieme a guardare lo stesso video e immediatamente colgo tutte le reazioni gli shorts che si possono fare ce ne sono veramente di tantissimi tipi di tantissimi tipi diversi noi quello che diciamo sempre è che la consistency is key cosa significa 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 che l'essenziale è avere in mente un piano che possa essere anche sostenibile nel tempo e comunque coerente e anche una cosa che possa essere sostenibile appunto da un punto di vista poi di produzione e tutto tantissimi tantissimi modi diversi di fare contenuto ci possono essere appunto diciamo cose più se volete standard come social cuts cioè quindi proprio dei contenuti fatti apposta ma anche delle cose molto più casuali cioè ad esempio filmate da altre persone o addirittura anche del contenuto che sia completamente fatto dall'artista l'artista filma qualcosa eccetera si aggiungono un paio di cose e quello diventa lo shorts che può essere utilizzato per la release day non c'è una cosa che funziona più o meglio di un'altra si può sperimentare veramente con tutto e anzi noi invitiamo anche tantissimo proprio a sperimentare per trovare nuovi formati vi raccontavo anche rapidamente dei diversi formati di video che si possono utilizzare questo in realtà già si vede su tantissimi canali penso che tanti di voi già seguano tanti artisti sia locali che internazionali e sempre di più vedete che ovviamente ci sono le art tracks che sono dei video autogenerati che partono dalla delivery audio che viene fornita dai nostri partner di musica e questi video sono anche quelli che formano poi il nostro servizio di youtube music quindi la parte streaming ma poi ci sono anche tutta una serie di video che sempre di più possono essere creati anche come versioni alternative quindi visualizers lyric videos alternative versions quindi anche qui grande spazio grande spazio alla creatività e anche a tipi di produzione molto diversi molto spesso succede anche che dipende a seconda di quando il music video è veramente disponibile possono essere utilizzati nel mentre altri formati video prima del lancio ufficiale quindi anche lì ce la si può sempre ce la si può sempre un po' giocare qualche qualche cenno veloce per quanto riguarda poi la parte di ottimizzazione del canale della community nel momento della release date molto importante fare in modo che i fan riescano a trovare subito il contenuto nuovo quindi questo va messo assolutamente in evidenza e la stessa cosa anche può essere fatta attraverso la community quindi ad esempio su community abbiamo lanciato anche delle nuove funzionalità tipo i sondaggi quindi si può lanciare un sondaggio e molto divertente ad esempio quello che quello che ha fatto Karin Leon che è un grandissimo artista latinoamericano che sta avendo un successo un successo strepitoso lui è messicano ha utilizzato i sondaggi proprio per insomma cercare di capire come stava andando il nuovo singolo e tutto quindi sono appunto delle funzionalità che possono essere utilizzate anche proprio in modo molto molto giocoso post release cosa è essenziale fare continuare il ciclo di vita del nostro music video della nostra della nostra release qui tra l'altro c'è un video di Davido unavailable che probabilmente molti di voi avranno visto comunque ha avuto anche questo grandissimo successo ha avuto uno span nel corso del tempo molto molto importante dopo la release quali sono le cose fondamentali da guardare utilizzando youtube analytics sicuramente il nostro consiglio è quello di pensare a guardare queste metriche che sono in particolare gli unique viewers quindi cercare di capire qual è la nostra audience globale unique viewers significa utenti che cioè proprio gli utenti unici che nel corso del tempo hanno guardato il vostro contenuto riuscire a vedere che dopo un certo lasto di tempo la vostra fan base è cresciuta da un punto di vista di utenti unici significa che voi di fatto avete proprio aumentato la vostra la vostra fan base è una metrica ancora più utile delle views in sé perché le views in sé potrebbero anche arrivare da un numero limitato ma estremamente accanito di super fan che in quel lasso di tempo hanno guardato tutti i contenuti tantissimo vedere invece questo effetto da un punto di vista di unique viewers è molto è molto importante ovviamente fondamentale guardare comunque anche la parte di views e song streams capire quelli che sono i viewers ricorrenti anche questo è molto importante e anche capire tutta la parte di user generated content che passa da shorts ma passa anche poi da diciamo UGC tra virgolette normali tantissime volte ci sono utenti che utilizzano utilizzano brani originali inserendo del contenuto video tutto questo viene rivendicato attraverso un nostro sistema di copyright che è content ID e viene di fatto identificato come afferente al contenuto originale quindi anche questo però questa è una metrica di engagement molto importante perché che io faccia un video con un brano ad esempio di Paola e Chiara un mio video utilizzando quella musica significa che io quella musica proprio la amo perché ci sto mettendo tantissimo tantissimo engagement e il fatto che Paola e Chiara possano vedere che magari ci sono stati non so mille video che hanno utilizzato quel brano caspita vuol dire che ci sono mille persone per cui quel brano è la colonna sonora di qualche cosa e quindi questo è molto bello e molto importante e poi appunto durante il ciclo di post release assolutamente continuare ad aggiungere contenuto e anche a utilizzare shorts in modo creativo come si anche guarda tutto questo poi da un punto di vista di metriche abbiamo lanciato giusto quando una settimana fa sì una settimana fa esatta abbiamo lanciato una nuova una nuova versione delle youtube charts che anzi vi invito a guardare anche adesso se volete anche da mobile le trovate a youtube.com slash charts oppure se cercate charts youtube è il primo risultato sono cambiate sono molto belle ditemi chi c'è qual è il video più visto di oggi se è ancora quello che c'era stamattina comunque potete vedere il video più visti del giorno quindi abbiamo lanciato delle daily charts tra le altre cose e ci sono anche dei contenuti che gli artisti possono condividere direttamente nel momento in cui si vedono vedono appunto delle possono condividere direttamente attraverso delle grafiche dedicate in alcuni paesi non ancora in Italia per il momento abbiamo lanciato anche daily shorts quindi i brani più popolari su shorts appunto in un tot di paesi e poi come vi raccontavo abbiamo fatto una serie di aggiornamenti anche su artist analytics in particolare perché quello che è sempre più evidente in un mondo multiformato è che la singola metrica di quanto ha fatto quel video è utile ma non è quella che ti racconta tutta la storia di quel brano e quindi attraverso il nuovo sistema di artist analytics uno riesce a vedere quella che è la total reach di quella traccia attraverso tutti i diversi formati anche in un modo poi anche molto più molto semplice da riuscire a capire a intercettare quindi assolutamente vi invito a scoprire queste queste due funzionalità abbiamo anche qualche case study che vi voglio qualche case study e qualche esempio che vi voglio raccontare vi racconto prima un case study che vi fa vedere tutto questo con proprio tutta la scaletta di quello che ci siamo raccontati questo è il caso di Ray che è un artista UK e qui vedete proprio tutto quello che questo artista ha fatto nella parte di pre-release durante il release date e durante la fase di post-release quindi durante la fase di pre-release ha creato 30 shorts compresi anche degli audio teaser delle performance del behind the scenes quindi tutto un lavoro molto puntuale su questo ha creato tre official music videos che sono stati sono stati lanciati attraverso premiere prima proprio dell'album dell'album release e quindi queste includevano anche la focus track che si chiama escapism però giusto per darvi proprio l'idea ha caricato anche una serie di live performances quindi insomma un palinsesto tra virgolette una calendarizzazione molto interessante durante la release date poi ha caricato 11 visualizer quindi nel momento in cui è uscito l'album ci sono stati questi 11 visualizers ha aggiunto una serie di post per supportare poi anche la release album e ha creato anche una playlist includendo tutti i music video ufficiali in modo proprio da organizzare il canale per bene fase di post release ha fatto un video promozionale attraverso shorts ma ha anche raccontato un po' un po' di più dell'album creando un making of video proprio per dire ok avete già ascoltato questo questo brano avete già visto questo video ma adesso vi racconto qualche cosa di più quindi svelando anche un po' di tutta la fase di produzione eccetera e poi ha fatto anche un ufficial un ulteriore official music music video successivo alla release dell'album quindi questo giusto per darvi poi un proprio un un quadro in realtà stiamo vedendo che il sistema del multiformato ormai è veramente lo vediamo utilizzato dagli artisti con le storie e le provenienze più diverse e quindi vogliamo farvi anche vedere qualche esempio primo esempio che vi voglio far vedere è un esempio recentissimo non so se conoscete Rema Rema è un artista nigeriano allora Rema è l'artista di Calm Down che io credo che tutti voi abbiate sentito il music video ufficiale ha oltre mezzo miliardo di views in un anno e quello che è molto particolare di Rema è che lui ha è veramente un artista che in una dimensione live fa cose incredibili quindi i suoi show live sono veramente delle esperienze fenomenali lui ha integrato questa strategia moltissimo proprio all'interno del suo canale creando come vedete una shelf dedicata alle sue performance per far vedere quindi anche per promuovere poi il suo tour ha fatto la stessa cosa anche su shorts ma soprattutto poi anche per raccontarvi qualche cosa che poi potete andare a vedere giusto una settimana fa Rema ha fatto un fantastico live streaming dalla O2 Arena di Londra che è stato trasmesso su youtube quindi ha creato veramente un grandissimo momento per farsi conoscere come artista anche da un punto di vista live quindi come vedete anche la dimensione live può essere veramente fatta in modi molto diversi qui c'è un esempio che è we're gonna see the case of Annalisa she started a consistent strategy on multi format based on shorts one year ago and she really made it very well best in class she posted during 3-4 months more than 10 shorts as Chiara explained before consistency is key with shorts particularly so she made this consistent strategy posting shorts and particularly she focused on Bellissima as you can see here she experimented with different kind of you know angles creativities around her hits and well nowadays this short is reaching more than and 3 million views only the short and you know the music video is almost 15 million views so far but the interesting point here with Annalisa is like with those dozens of shorts she could get a little bit viral let's say so all the fans generating content around Bellissima could reach more than 40 million views those UGC shorts only so basically you know she really got extra promotion thanks to this strategy and also she got some thousands new subscribers directly coming from the shorts that she was posting and yeah and it's it's growing organically now thanks to this you know consistency and creative experimentation somehow yeah indeed and tra l'altro dopo bellissima è stato bellissimo appunto vedere come anche il formato il formato shorts sia stato utilizzato poi anche per gli altri lanci che sono stati anche quelli di grandissimo successo anche la cosa molto bella è che lei come abbiamo visto cambia stile poi nei diversi music video e questa cosa si riflette anche su shorts quindi bellissimo bellissimo lavoro proprio il caso di dirlo quindi bravi a tutti un caso ecco se volete guardare il canale di un artista che fa qualsiasi cosa si inventa qualsiasi cosa Alan Walker Alan Walker ha oltre 44 milioni di subscriber su youtube e se guardate il suo canale riuscirete a capire perché perché davvero fa un lavoro incredibile lui sperimenta tantissimo con numerosi formati da vlog a ovviamente live performance sul suo canale sono tutti ben tra l'altro organizzati ha iniziato a fare la stessa cosa anche su shorts e di fatto è come se si portasse in giro i suoi fan facendo scoprire loro veramente delle pillole di vita man mano che viaggia qua abbiamo preso un esempio di lui che si trova in ariade in Arabia Saudita a visitare un enorme studio studio discografico e cerca di spiccicare qualche parola di arabo e lui lo fa in un modo tra l'altro estremamente informale molto molto simpatico quindi ti dà l'idea davvero di una persona che senti familiare tutta la sua strategia poi di lancio sul multiformato si basa tantissimo sulla community dei walkers quindi lui fa tutto questo ha veramente creato un fortissimo senso di community e man mano proprio ai walkers presenta crea tantissimo teasing su tutte le nuove uscite e sulle nuove performance live quindi veramente se non conoscete il canale di Alan Walker guardatelo perché penso che sia veramente esemplare and now coming to Maneskin Maneskin was one of the best and the first adopters of multiformat and they master it they have been using everything that we have already explained from shorts to live to after party to anything long form video short form video they really master it and something cool that we did this year apart from all this multiformat strategy is like thanks to the UK team we brought them live in London so we offer the opportunity to the band to perform in front of some fans and YouTube creators who were also creating content in a multiformat way during the live performance and they are still you know again they are working in this consistent strategy all through the short form and for video and the live stream I really invite you to check it out and and the next case we have yes and oh sorry no I wanted to just add se non l'avete visto i documentari dei Maneskin sui loro tour guardateli perché oltre a essere fanno morire da ridere ragazzi sono delle cose fantastiche sono stupendi quindi ve li consigliamo tantissimo and now you mentioned it also interesting right from Maneskin it's a no brainer but it's the the way they experiment with different languages right so that's interesting from them to for inspiration right they make content in English in Italian even sometimes in Spanish right and so that's interesting to reach out to new audiences outside Italy right and and to grow all together and export their music so really yeah worth to check that out now going to Marco Mengoni Marco Marco was so nice to to offer the fans a little bit of a glimpse of what he lived during Sanremo this year right so basically what what the team did was recording in the form of a documentary 45 minutes of footage just you know what Marco wanted to share with the fans how he was preparing for it behind the scenes anything in 40 minutes right himself with the team some people in the room was there as well and so basically apart from the long form video documentary of course he was already posting tones of short telling different stories and particularly this one and followed by this documentary he jumped into a live moment what we call a live after party at this site in which after you know watching the documentary exclusively on YouTube he had special private moments with premium fans to you know have a chat with them Q&A sharing love with them through the chat and also live and it was a very interesting thing because that also helped him not only to talk about Sanremo but also warming up a little bit for Eurovision right so that was cool for him I think and here as an example that image on the top he was basically answering to a fan who was asking him to show the outfit the secret outfit that he was wearing for Eurovision so his answer like yeah I'm going to show you it's nothing okay he was teasing the audience there was no outfit and he wanted to keep it as a surprise but it was a cool moment and again Marco is also working on this consistency right posting shorts timely and also all these stories got some PR attention initially from Vogue and Stampas and example you know so everything makes sense in the narrative of these special moments ecco congratulazioni al team che ha lavorato su questi su questi casi tra l'altro bravi sony bravi davvero un altro caso che vi cito è quello del canale di Warner Music Italy parliamo del canale di una label questa volta canale di una label che fa anche qui qualcosa di molto particolare perché appunto Warner Music Italia è un canale di 6 milioni di iscritti molto grande bravi ragazzi veramente cosa hanno pensato di fare utilizzano short per promuovere il loro roster sia a livello italiano che internazionale quindi danno un po' di visibilità a tutto quello che succede ai loro artisti e anche agli artisti che passano da Milano quindi vedete qua vedete appunto alcuni esempi ci sono sia shorts che promuovono le nuove uscite come quella di Dua Lipa o di Pink Pantress e Central Sea ma anche appunto performance di artisti che succedono localmente quindi diventa veramente un modo anche molto dinamico per farsi un'idea degli artisti di Warner cosa stanno facendo cosa fanno gli artisti internazionali quindi insomma anche questo è un esempio molto creativo e molto interessante non possiamo non citare questo caso che è appena cioè proprio nuovo 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 che è veramente un caso incredibile appena successo so che sapete tutti di cosa stiamo parlando dell'ultima l'ultima traccia dei Beatles che è tra l'altro un pezzo bellissimo Now and Then tutto un lavoro di Deca Universal UK e Global insomma veramente veramente molto molto bello si vede vi abbiamo messo apposta solo lo screenshot per farvi capire che anche senza spiegarlo è chiarissimo il lavoro incredibile che c'è stato dietro dietro tutto ciò si è iniziato con appunto una piccola parte di teasing su questo su questo su questo su questo brano al momento della release al momento della release date come vedete non c'è soltanto l'official audio ma anche un documentario di 12 minuti che vi invitiamo assolutamente a guardare perché è davvero molto bello e poi c'è stato anche l'official music video a tutto questo si è sommato anche un utilizzo molto intelligente continuativo di shorts quindi ci sono tantissimi shorts i fan hanno iniziato a creare shorts utilizzando anche questo brano e anche la parte di proprio user generated content quindi tutto questo per amplificare e portare i Beatles nuovamente e ancora come sempre tra tutti noi con veramente grandissimo successo e creando davvero un momento un momento leggendario possiamo dire possiamo dire così e con questo direi che abbiamo un po' chiuso un po' tutto quanto ci fa molto piacere se ci volete lasciare qualche feedback se volete inquadrare c'è un così un piccolo una piccola survey se vi fa se vi fa piacere e vi ricordo nuovamente che questa presentazione a parte le ultimissime le ultimissime slide la trovate la trovate online quindi approfittatene per riguardarla e tutto anche più rapidamente di quanto l'abbia l'abbia raccontata l'abbiamo raccontata noi e con questo vi ringraziamo tutti moltissimo thank you all so much e grazie